Gesù dice, fallo anche tu, fallo per primo, allora sarà davvero un grande anno della misericordia, perché riceviamo e diamo. Dare prima di ricevere, offrire perdono ancora prima di chiederlo, porgere un bicchiere d'acqua quando noi abbiamo sete. Con questi esempi, prendendo spunto dal Vangelo, il Vescovo Dio Cesano ha chiesto agli ospiti della Casa di Riposo, le due palme di Sestri Levante, di vivere l'anno della misericordia, attraverso semplici gesti concreti di vicinanza e carità, per trasformare ogni luogo in uno spazio di incontro e accoglienza fraterna. Un momento atteso da tutti gli ospiti della struttura, quello della Santa Messa celebrata dal Vescovo in tempo di Quaresima, e che quest'anno, in occasione del decennale di fondazione della Casa di Riposo, ha assunto un significato particolare. Questo periodo festeggia dieci anni di apertura, per noi è un'eccellenza, veramente questa struttura. Una struttura dove gli ospiti sono, come posso dire, trattati con un tercambio veramente umano, dove veramente si trovano bene. Il Vescovo ha sempre gradito questa visita, diciamo, perché ha l'occasione di visitare anche i nostri ospiti, quelli che sono allettati, e gli porta, come si dice, una parola di conforto. Ecco, questa è la cosa che riusciamo a riscontrare durante queste visite. Un'ottantina gli ospiti fissi della struttura, alla quale si aggiungono 15 anziani che vengono accoliti solo durante il giorno. A pensare a loro il personale qualificato della Casa di Riposo, supportati da una decina di volontari dell'Avo, che qui prestano il loro servizio quotidianamente, anche la domenica. Portiamo parole di conforto, li aiutiamo dove è possibile, nei piccoli bisogni, magari possono essere anche più banali, non so, aiutarli a bere un bicchiere d'acqua, aiutarli durante l'ora dei pasti, portarli a fare un giro in giardino. Grazie. 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 Grazie.